Si diffonde il profilo della presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni, dopo i rumors su un possibile flirt con Tony F, ora il sito MAME lancia una nuova indiscrezione sulla vita privata dell'influencer. Si tratterebbe di Andrea Bischotti, un ortopedico di 31 anni che lavora presso l'Humanitas di Milano. La notizia è stata confermata poche ore fa da fonti ospedaliere ad Agospia. Andrea Bischotti, nato nel 1993 a Pontremoli, in Toscana, si è laureato all'Università di Parma e attualmente lavora all'Humanitas di Milano. Sul suo profilo Instagram Andrea Bischotti si presenta come medico specializzato in ortopedia e traumatologia presso l'Humanitas è consulente in un altro centro a Pontremoli. Con circa 3.000 followers, tra cui figura anche Chiara Ferragni, il suo profilo ha attirato molta attenzione. Il sito MAME ed Agospia affermano che la relazione tra i due non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Secondo MAME, Chiara Ferragni e Andrea Bischotti si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie comuni durante una permanenza dell'influencer a Forte dei Marmi. La notizia continua a circolare, suscitando grande curiosità tra i fan e i media.